È arrivata la settimana della Federal Reserve, Jerome Powell cosa farà? Alzerà il costo del denaro di 50 punti base o di più? Quali saranno le conseguenze per il mercato, per il mondo azionario americano e per quello valutario? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Altra carta verde Riccardo, un altro long, questa volta sul petrolio. Ne hai parlato tu prima, petrolio era già rialzista da mesi, mesi e mesi, praticamente dal maggio 2020 quando durante la crisi Covid, durante il lockdown mondiale toccò quel meno 40 dollari al barile sul future scadenza maggio, se non mi ricordo male, a fine aprile. È long da tantissimi mesi, chiaramente questa tendenza rialzista si è accentuata con lo scoppio della guerra. Non penso che sia finita qua, ancora un pochettino di spazio rialzo sul petrolio c'è e quindi ho scelto di giocare una carta verde su quella che è forse la principale materia prima al mondo. Beh, se torniamo indietro anche a quel 2020, ma soprattutto nei mesi successivi, quella euforia che ha dominato anche il 2021 sulla green economy, certo immaginare un petrolio a 130 dollari era davvero difficile. La sensazione è che vi sia una sostanziale lateralità però, che si provi a trovare una nuova normalità con un repricing rispetto al passato, quantomeno quello recente, ma comunque un intervallo fra rotondo i 95 e i 110 dollari come soglia all'interno del quale studiare e mettere in gioco le carte. Sì, sì, assolutamente Riccardo, guarda mi sembra di essere tornato ai massimi che furono inizialmente raggiunti nel 2011 e poi praticamente fino al 2014 il petrolio ha oscillato avanti e indietro attorno ai 100 dollari al barile. Anche nel 2011 veniva da due anni precedenti di forte salita e poi si è sostanzialmente fermato, ha trovato questo baricentro, questo punto di equilibrio nell'intorno dei 100 dollari e l'abbiamo tradato per tre anni, appunto fino al 2014, su quei valori di prezzo. Che possa succedere di nuovo una cosa del genere la vedo difficile in termini di durata, cioè altri tre anni con il petrolio più o meno 100 dollari la vedo dura, però come dinamica di prezzo sì, magari non così tanto tempo, però i prossimi mesi con un petrolio che avanti e indietro oscilla su questi prezzi ma più o meno rimane sempre qua, sinceramente me lo aspetto. Una considerazione tecnica prima di andare a vedere i tuoi livelli, chi avesse ad esempio comprato petrolio con un contratto future e torniamo qui nella primavera 2020, non sarebbe stato in grado di cavalcare tutto questo movimento rialzista? Con il turbo certificate questo è possibile perché avviene uno rolling automatico, soprattutto non si ha un effetto compounding, sono i livelli operativi che vi permettono di avere una leva che fissate quando andate ad acquistare lo strumento e qui sì che avreste potuto davvero fare delle performance strabilianti, certo, siamo realisti. Se arrivano determinati valori di performance si porta a casa, non è che è veramente difficile riuscire a cavalcare tutto ma ipoteticamente è possibile, cosa che non è proprio banale. Assolutamente Riccardo hai fatto bene a sottolinearlo perché quel meno 40 sul petrolio non lo compravi innanzitutto perché dopo la scadenza il petrolio fa consegna del sottostante, dalla scadenza fa consegna T più 2, quindi due giorni operativi successivi ed è in quei due giorni tra T0 e T più 2 che ha fatto il meno 40. Se noi volevamo tradare, potevamo tradare la scadenza successiva che il minimo l'ha fatto a 6 dollari e comunque dopo un mese scadeva, quindi quello che tu hai spiegato molto bene. Non lo compravi a meno 40, lo compravi a 6 se eri un supereroe che comprava proprio sul minimo assoluto, 6, 6,5, 7 e poi comunque dopo un mese il petrolio scadeva perché ci sono scadenze ogni mese e forti in quel momento soprattutto, forti differenze di valore, francontrate l'altro. Con un certificato potevi permetterti invece di fare una trade di medio e lungo periodo, quindi il future chiaramente funziona solo per trade e orizzonti temporali molto molto più corti. Visto che si parla sempre di future anche rispetto ai certificati, cosa non banale il margin call, perché ipotizziamo di essere stati long sul petrolio e di aver visto il crollo delle quotazioni, molto probabilmente vi era da rintegrare il margine, mentre con il turbo certificate di turno se andava a toccare al massimo il livello di knock out si perdeva al massimo quello che era il capitale investito in quell'operazione non di più. Livelli? Sì assolutamente Riccardo tutto corretto, non sto a dilungarmi, livelli 104 come prezzo di entrata con 3 dollari di stop e 3 dollari di target. Quindi visto che adesso siamo sotto quel livello, se il petrolio ha la forza di recuperare il 104 io punto insomma un superamento dei massimi della giornata di oggi e di ieri e poi quindi fino a 107 circa e poi si vedrà perché ci sono i massimi del 29 aprile, quelli del 18 di aprile insomma i livelli di resistenza sono tanti. Stop a 101 e sono abbondantemente sotto i minimi della giornata di oggi, purtroppo non sono sotto il minimo del 2 di maggio però non volevo fare una trade che in percentuale mi facesse rischiare troppo e quindi ho deciso sia di stringere i quantitativi di stop che di target e sia come avrei notato di scegliere un certificato con una leva molto piccola, 1,81% rispetto a un 8,91% che è stato scelto, che ho scelto su Euro-Dollaro. Questa è un'altra opportunità che chiaramente abbiamo con i certificati. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading. Grazie.